Mister, partiamo dal fatto di come si vive questa brevissima pausa, un po' arrabbiati e poi ci si trova a giocare con una squadra che purtroppo ha tanto bisogno di punti quanto la Cremonese ovviamente di un altro tipo di campionato. Si vive con la consapevolezza che comunque si è fatta una bella partita e bisogna fare probabilmente molto ma molto di più, molto meglio contro il Milan. Questo è un po' il sentire che abbiamo oggi, ieri e certamente anche domani. Ecco, da una parte c'è la volontà forse di confermare una formazione che ha fatto bene contro il Verona, dall'altra però c'è la necessità del turnover per recuperare forze fresche. Cos'è che prevale? Prevale la consapevolezza che chiunque giochi, comunque se abbiamo l'attenzione, l'umiltà giusta riusciamo a fare delle belle prestazioni a prescindere da chi si è in campo. L'abbiamo visto nel recente passato a Firenze, poi a Verona, ma l'abbiamo visto anche in altre occasioni. e quindi abbiamo la sensazione, più di una sensazione, la convinzione che quando siamo squadra chiunque scenda in campo fa il suo dovere. In percentuale quanto c'è di Ballardini nella prestazione con il Verona? Quanto la sente sua la squadra che è arrivata a fare questa prestazione molto buona domenica? Se può darmi una percentuale, insomma, visto che il suo lavoro è stato a metà strada della stagione, quanto adesso la sente comunque sua? Beh, adesso la Cremonese per me, insomma, a parte la brutta partita che abbiamo fatto contro Udinese, è già da un mese e mezzo, due, che facciamo delle belle partite. È già da un mese e mezzo, due, che oltre alle belle partite facciamo anche dei buoni risultati. Quindi, diciamo così, ora siamo sempre più padroni, padroni è una parola grossa, però siamo sempre più chiari nell'approccio alla partita, in quello che dobbiamo fare quando abbiamo la palla e come ci dobbiamo comportare in fase difensiva. Ecco, è da, siamo a maggio, abbiamo fatto tutto aprile, tutto marzo, che, insomma, abbiamo fatto delle belle partite. Ecco, quindi, è questo quello che vediamo. Ecco, lo vediamo in allenamento e poi tutto questo si riflette poi nelle partite che andiamo a fare. Poi ne faccio un ultimo, a che ripartiamo. Nei singoli, lo so che a lei non piace tanto il suo Fermassi, però è un giocatore che mi pare non abbia mai i riflettori, però che sia molto utile quando è in campo e mi sembra che sia Galdames. Ho apprezzato anche con il Verona la sua partita, magari poco appariscente, ma molto utile. Volevo sapere se era della stessa opinione. È la verità. È un ragazzo che ha il gioco del calcio nel sangue. Lui sa sempre dove si deve posizionare e sa sempre cosa deve fare. E quindi è proprio, la sua è una qualità innata, ha il senso del gioco naturale. E quindi poi, oltre a questo, ha questa grande generosità, questa grande umiltà nel mettersi sempre a disposizione della squadra con, come abbiamo detto, con la sua intelligenza tattica. Quindi siamo contenti di averlo, ma lo conoscevo e ce lo gustiamo per quello che ci può dare. Grazie. Prego. Mister, come stanno Taju e Benassi, che erano indisponibili nell'ultimo turno, come sta in generale la squadra? Allora, Benassi ha recuperato, si è allenato con la squadra oggi, quindi lui c'è, è a disposizione. Taju no, anche se ha fatto un esame questa mattina ed è migliorato molto, però probabilmente rientrerà con la squadra dalla settimana prossima. Questo è un po'… e in generale mi sembra che la squadra, a parte qualche botta che si è preso, qualche così fastidio muscolare, un po' di stanchezza, però mi sembra che la squadra stia bene. Mister, come si fa a battere il Milan? Perché poi di questo si parla, ovviamente, una squadra forse anche un po' riconcentrata dal fatto che possa giocare ancora con la Lazio, poi la Champions League, insomma, impegni sono tanti, ovviamente, quello che può capitare con una squadra che sta sul fondo della classifica è quello magari un pochino di giocare con un filo di energia nervosa inferiore. Ma penso di no a questo punto. I punti sono tutti molto pesanti perché si stanno giocando anche loro la qualificazione per la Champions League, sono tante squadre, quindi no. Penso proprio che il Milan, magari visto le partite così tante ravvicinate, anche loro faranno magari riposare qualcuno, però no. Noi da parte nostra, per me la convinzione è che se tu ci sei come squadra, se hai quell'atteggiamento giusto che abbiamo dimostrato di avere da un po' di tempo a questa parte, fai la tua partita anche contro, diciamo così, dei mostri, perché il Milan quando stanno bene fisicamente e poi è da tanto che giocano insieme, hanno avuto anche il successo che gli dà ancora più forza, il successo intendo il campionato vinto, il successo intendo la semifinale di Coppa dei Campioni, cioè sono davvero forti, consapevoli, ma nello stesso tempo oltre ad essere forti e consapevoli che comunque mantengono quella umiltà che le grandi squadre devono avere, quindi noi da parte nostra siamo convinti che se facciamo una bella partita da squadra faremo la nostra partita anche a San Siro contro il Milan. L'ultima cosa, abbiamo parlato dopo la partita, se tutti mi chiedono qualcosa sull'arbitro evidentemente qualcosa sarà successo, poi ovviamente avrà visto le immagini di serata, le chiedo indipendentemente dal fatto dell'espulsione, l'intensità, mi chiedo sull'ultimo episodio sul calcio di rigore una valutazione asettica. Io l'ho vista, però questo poco cambia, a me sembra, poi non so, ho visto anche il rigore dato, mi pare l'Udinese contro il Monza, mi pare, che Petagna sfiora un giocatore dell'Udinese e quindi non conta niente. Per me, riguardando, perché non l'avevo vista, riguardando l'azione, è rigore perché il giocatore proprio avversario travolge in aria di rigore il nostro giocatore e quindi è rigore, ma basta. La Cremonese, i giocatori, l'ambiente, la società, bisogna che noi siamo, diciamo così, più bravi di queste cose così. Per me ci sono cose ben più importanti e noi dobbiamo, abbiamo il dovere di pensare a far bene il nostro. Poi se facciamo bene il nostro, quelle cose lì passano in secondo ordine. Ha già deciso lo schieramento per Milano o deve ancora ragionare? Sarà meglio che l'abbia deciso perché se no... Nel senso che c'era qualche dubbio o è provabile rivedere, se può dirmelo, lo schieramento con il Verona? Magari con altri interpreti però... Ma noi sì, è da un po' di tempo, abbiamo giocato così più o meno, sì, siamo quelli con la difesa quattro, poi dopo magari alterniamo gli esterni o le mezziali, però adesso siamo quelli. Sì, abbiamo già deciso anche chi deve partire, ecco. Sì, sì, l'abbiamo deciso. È chiaro che finché non lo sanno i giocatori, perché adesso noi li mischiamo sempre. Il nostro modo di allenare è quello di non partire dal martedì con una squadra che magari ti concentri sulla squadra e gli altri li consideri poco. Noi abbiamo questa maniera di allenare, li consideriamo tutti, vogliamo che siano tutti coinvolti, poi man mano che la settimana va avanti facciamo delle scelte.